Chiari amici, benvenuti in questo nuovo video! Ciao! Circa un mese fa siamo stati contattati da Ludos per testare il loro prodotto di punta, gli auricolari Ludos Ultra. Conoscevamo già da tempo questa azienda italiana, poiché nel settembre 2018 avevo acquistato un tappetino da gaming XXL lungo quasi un metro e ho anche rimasto piacevolmente sorpreso dalla lettera di accompagnamento, che mi aveva fatto capire quanto tenessero a dare il massimo per la loro giovanissima start-up, nata appunto nel 2018. Abbiamo deciso quindi di accettare la loro proposta, sia perché interessati ai loro nuovi prodotti, sia per supportare un'azienda italiana che a nostro parere merita davvero di farsi conoscere. C'era solo una piccola grande sfida da superare per noi, non usiamo gli auricolari in-ear, perché tutte le volte che ci sono capitati, magari in bundle, con smartphone o tablet, non ci hanno mai davvero convinti e li abbiamo trovati spesso troppo piuttosto scomodi. Quindi come potevamo pensare che stavolta le cose sarebbero potute andare diversamente? In realtà per diversi motivi. Beh, innanzitutto gli auricolari devono essere comodi e restare in posizione, altrimenti possono anche avere la qualità migliore al mondo, ma se non li riesci a usare non te ne fai di molto. I Ludus Ultra vengono venduti con ben 8 cuscinetti, 6 in gomma morbida, di diverse dimensioni a coppie, e 2 in memory form. In questo modo è praticamente impossibile non riuscire ad adattarli comodamente alle proprie orecchie, e ognuno troverà alla fine quelli perfetti per se stesso. Gli abbiamo testati nelle ultime 3 settimane e sono rimasto stupito di quanto siano comodi. Per la prima volta ho usato degli auricolari Nia senza alcun fastidio, e il memory form è così morbido, malleabile, non si sente nemmeno. Non scivola facilmente nemmeno quando ci si scatena con i ritmi per cui è impossibile stare fermi. Tra l'altro in questo periodo ho scoperto la musica hardstyle e la adoro. E io mi sono trovata bene in particolare con i gommini della dimensione più piccola, perché si adattano perfettamente alle mie orecchie piccoline. Infatti il mio problema di solito con le in-ear è che non si adattano bene, non mi entrano bene, non rimangono a posto, cadono, vanno da tutte le parti, quindi sono inutili. Ma parliamo adesso della qualità audio. Abbiamo ascoltato musica di ogni genere, la epica, rock, pop, hardstyle, qualsiasi cosa. Quella soprattutto. Quella soprattutto. E pompano tantissimo. E abbiamo fatto il confronto con gli altri auricolari che usavamo prima. La differenza c'è e si sente subito, infatti si vede che sono degli in-ear fatti a posto anche per ascoltare la musica. Per quanto siano solo auricolari, hanno una potenza incredibile, sono ben isolanti e mantengono una qualità sonora fedele all'originale, rendendo l'esperienza uditiva sempre ricca e coinvolgente. Assolutamente. E la qualità costruttiva poi è ottima e si può vedere anche solo guardandole, secondo me. Il cavo di 1,2 metri è di ottimo materiale, non si intrica tutto, cosa che di solito succede sempre, ed è anche piacevole al tatto, e non sempre lo è. Inoltre dà l'impressione di essere anche molto resistente, e possiamo dirvi che dopo settimane di utilizzo è ancora perfetto come appena aperto. Come potete vedere, è presente anche il tastierino con il microfono, il pulsante del volume, e quello per rispondere, agganciare e mutare il microfono nel caso lo abbiate attaccato al vostro telefono. La parte auricolare è molto bella a vedersi, con il logo LUTOS che nasconde i magneti, che sono molto comodi perché permettono di riagganciarli in un attimo, idea davvero geniale quando si trasportano. Nella confezione, inoltre, troviamo anche un pratico sacchettino morbidino per riporli quando non servono, dello stesso colore degli auricolari. Infatti, esistono ben 8 colorazioni disponibili per il LUTOS Ultra, in modo da accontentare tutti quanti. Potete scegliere tranquillamente il vostro colore preferito. Da considerare è anche il prezzo, che per la qualità offerta è davvero molto vantaggioso, e al momento si aggira intorno a solamente 15€. Mi ritengo molto soddisfatta del rapporto qualità-prezzo, e le userò sicuramente non solo per sentire la musica, ma anche per le telefonate, dato che, appunto, spesso uso gli auricolari per telefonare. Mi piace davvero tanto l'idea del memory foam per i cuscinetti, e piace anche alle mie orecchie, in realtà, perché li posso tenere su anche tutto il giorno e non mi danno mai fastidio. La musica che sento ha anche una qualità migliore a quella a cui ero abituato dagli auricolari, e quindi sono l'ideale anche per quando vado a correre, perché non cadono, quindi va bene. Se siete alla ricerca di ottimi auricolari ad un prezzo davvero contenuto, ci sentiamo di consigliarvi Ludos Ultra. E anche se siete scappati dagli in-ear fino ad adesso, come noi, pensiamo possiate assolutamente dargli una possibilità, se lo meritano, se gli auricolari sia questa fantastica startup italiana. In descrizione trovate il link per acquistarli e per conoscere ulteriori dettagli, fateci sapere nei commenti voi quale colorazione scegliereste, perché siamo curiosi. Grazie mille per essere stati con noi, e alla prossima cari amici! Ciao!